Per la prima volta gli alunni di un'istituzione scolastica hanno fatto visita ai locali della Questura di Foggia nell'ambito di un progetto sulla legalità che ha visto coinvolti i piccoli alunni della Scuola Leopardi. È stata la prima volta che i nostri alunni hanno potuto visitare la struttura della Questura di Foggia con l'obiettivo di conoscere l'organizzazione della Polizia di Stato e in particolare di avere delle informazioni per quanto riguarda i rischi che si corrono utilizzando dispositivi internet, cyberbullismo, truffe e quant'altro. Accompagnati dai propri insegnanti, gli alunni sono stati ricevuti dai funzionari della Polizia per una visita della struttura per discutere sul tema della legalità e in particolare quella connessa al corretto utilizzo del web. Ad accogliere gli alunni anche il procuratore Massimo Lucianetti, già procuratore generale di Potenza, impegnato da anni sul tema della legalità sotto l'aspetto soprattutto della prevenzione. Gli alunni hanno partecipato con gli insegnanti ad un progetto sulla legalità. Quest'anno gli alunni delle classi quinte hanno partecipato ad un progetto legalità che ha visto per la prima volta le classi visitare la Questura di Foggia e interloquire con diversi funzionari. Siamo stati anche ricevuti dalla Polizia Postale e abbiamo parlato del bullismo e del cyberbullismo. Tutto questo rientra in un progetto che riguarda l'educazione alla legalità.